terzo episodio di covid a scuola in quarantena una classe di acqualagna dopo le elezioni luglio accusa gestione scellerata dei 5 stelle regionali alla scoperta delle scuole pesaresi del passato con le giornate del patrimonio di se vuole finalmente chiamate al debutto casalingo in campionato buona serata benvenuti al nostro telegiornale in questo venerdì 25 settembre il nostro telegiornale di rossini tv che trovate tutte le sere alle 19 40 e poi in replica alle 20 40 e 22 questa sera apriamo questa edizione parlando dei dati riguardanti il coronavirus nulla di preoccupante però è da segnalare il terzo episodio di positività da covid 19 nelle scuole della provincia di pesaro urbino e automaticamente è arrivata anche la terza classe posta interamente in quarantena è successo ancora in una scuola elementare questa volta in una quarta dell'istituto mattei di acqualagna a sottoporsi al tampone e a risultare positiva una bambina di nove anni che era sintomatica da qualche giorno mostrando febbre e tosse in isolamento fiduciario sono finiti con i 20 compagni di classe anche quattro insegnanti l'episodio si accoda i tamponi positivi registrati nei giorni scorsi nelle scuole primarie degli istituti in pascoli di gallo di petriano e della rovere di urbania tutti e tre i casi sono monitorati dal distretto sanitario di urbino tre episodi che al momento non si sono allargati ad altri casi di positività intanto nella regione marche le ultime 24 ore hanno registrato 33 nuovi contagi al coronavirus sette dei quali appartenenti alla provincia di pesaro urbino sono attualmente 24 i ricoverati in regione due di questi si trovano in terapia intensiva tra pesaro e ancona e continuiamo a parlare di coronavirus perché questo virus così forte ha costretto a carenze e limitazioni diversi reparti della sanità pesarese uno di questi è la diabetologia che invoca una collocazione a pesaro più adeguata dell'attuale appoggio in neurologia reputato non sufficiente dal presidente dell'associazione diabetici paolo muratori è un passo avanti per tutelare i malati diabetici però non è una situazione degna per i numeri che ci sono perché la gente viene ricevuta 7 8 persone al giorno quando ne ricevevano 20 e 30 questo purtroppo questo coronavirus ha stravolto la vita di noi tutti ma non solo italiani nel mondo il vero problema che i diabetici sono tanti e abbiamo anche tanti giovani col diabete 1 che è un problema ancora più difficile avere in famiglia una persona giovane con il diabete allora noi chiediamo che si possa arrivare presto a una soluzione trovare un reparto degno o ritornare in area vasta come ci avevano promesso perché così non è più gestibile presso l'ospedale Marche Nord in tanti momenti l'associazione ha cercato di catalizzare l'attenzione con momenti come convegni un mese fa uno importante nella vostra associazione ci sono altre situazioni in cui sarete chiamati a riaccendere i riflettori ma io credo che per quello che noi stiamo facendo pesaro la stampa tutti che ci danno una mano portiamo un convegno nazionale di fan che è la federazione associazione nazionale diabetici a gabice mare grande hotel michelacci dove aperto anche pubblico sabato e domenica il vero problema è che facendo queste cose noi stiamo combattendo avendo fatto una stesura nel 2017 che dove essere la città della diabete andiamo perfino milano san raffaele ci criticarono si dice che è brutto copiare però vedendo milano siamo 30 anni dietro noi allora io credo che a un malato potergli dare un po di speranza credo che sia importante fare queste cose questo convegno aprirà su quello che la conferma dell'incontro avvenuto a roma con speranza dove dicono più territorio meno ospedale io credo che su questo noi abbiamo fatto una cosa bellissima tre anni fa allora la vecchia dirigente con la lorena mombello mettendo in piedi l'assistenza domiciliare ai malati non autosufficienti di cui andavano la nostra infermiera pensate anche questo è stato tolto allora mi chiedo parlano adesso tutti destra sinistra che la sanità la sanità ma noi lo dicevamo da anni che questa sanità non andava bene così come era gestita mi fa piacere che oggi hanno capito tutti sia chi ha perso sia chi ha vinto che forse la sanità nel problema delle persone che diventano anziane abbiano problemi di salute sotto questo profilo credo che l'assistenza deve essere fatta meglio e le organizzazioni devono essere ascoltate perché se è vero che io non sono un'associazione onus di volontari ma sono anche a tutela del malato e avere una denuncia dal tribunale del malato perché non è stato fatto bene il lavoro che per lui è un suo diritto questo credo che la dice lunga e credo che di qui nel giro di breve si risolva anche il problema di non essere più in neurologia o di essere da un'altra parte o in un altro reparto all'interno dell'ospedale ed ora andiamo allo spazio dedicato alla politica e come sempre continuiamo a parlare e approfondire i temi riguardanti il post elezioni regionali oggi infatti abbiamo intervistato il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Pesaro Lorenzo Lugli che accusa apertamente il movimento regionale sul modo in cui è stata gestita la campagna elettorale Non sono certo venuto a cantare vittoria, il ridimensionamento è stato notevole, c'è stato diciamo che è parzialmente mitigato dal risultato del referendum su cui contavamo molto e che è andato come speravamo però obiettivamente rileviamo questa recessione del Movimento 5 Stelle un po' in tutta la regione fatto salvo forse proprio della provincia di Pesaro dove sostanzialmente abbiamo tenuto perché abbiamo tenuto? Io faccio una riflessione semplice, secondo me gli elettori sanno bene che cosa stanno facendo i loro portavoci e i portavoci di Pesaro e di Fano che sono le città più importanti, sono quelli che hanno prodotto più atti, che hanno prodotto più risultati che hanno prodotto più politica seria questa è stata parzialmente premiata dagli elettori che comunque hanno voluto un cambiamento chi vince l'elezione ha diritto di governare, ci mancherebbe altro a noi il compito di ricostruire una situazione soprattutto con la base quella base che è stata un pochino dimenticata e soprattutto sono qui per dire che devo purtroppo lamentarmi di una condotta scellerata veramente dei vertici regionali che hanno scelto incredibilmente di escludere Pesaro dalla campagna elettorale abbiamo fatto soltanto un paio di uscite, sono stati completamente bypassati noi consiglieri siamo stati bypassati nonostante le nostre richieste di fare delle cose e guarda caso l'unica consigliera che è stata eletta con un gran bel risultato è stata proprio Marta Ruggeri di Fano che è stata l'unica che noi abbiamo sostenuto abbiamo deciso di sostenere solo lei perché gli altri in lista non ci rappresentavano erano delle persone che sono arrivate all'ultimo momento, dei pervenuti della politica o persone che comunque hanno sempre sviluppato una politica contraria alla costa e alla città di Pesaro noi non ci stiamo, porteremo avanti le nostre idee, le abbiamo dette a gran voce questa politica collaborativa e dialogante andrà avanti perché il risultato ci dà ragione E come ben sapete in queste scorse elezioni regionali due comuni della provincia di Pesaro Urbino hanno eletto anche il loro sindaco riconfermato a Isola del Piano Giuseppe Paolini e invece Sant'Angelo Invado ha un nuovo sindaco, si chiama Stefano Parri lo abbiamo intervistato E' chiaro che con due liste, con la sfaccatura che c'erano fatte nella vecchia amministrazione dell'Usi il risultato positivo ce lo aspettavamo, però probabilmente non di questa portata quindi significa che il percorso che abbiamo costruito è stato apprezzato dai vadesi ed è stato votato quindi le competenze, i consiglieri comunali che abbiamo proposto la lista di consiglieri comunali che abbiamo proposto è stata apprezzata anche in virtù poi delle preferenze che sono state espresse, che sono state abbastanza copiuse a quel che riguarda la nostra lista e il nostro gruppo Nel 2020 quali sono le criticità più impellenti di un territorio come Sant'Angelo Invado e le priorità che si darà alla sua futura giunta? Allora, la criticità secondo me la più impellente è come ahimè tutti stiamo vivendo è il discorso sanitario rigato al coronavirus, covid quindi questa cosa qua non va appresa tanto alla destinazione dobbiamo mettersi un focus importante perché la riapertura che c'è stata parziale, comunque vediamo giorno per giorno che sta creando qualche parlo soprattutto anche in termini di ballata qualche problemi lo sta tornando fuori quindi è bene non togliere il focus da quella tensione lì perché è una difficoltà, una problematica che va attenzionata in maniera importante dobbiamo riacquisire, io come ho detto spesso in campagna elettorale una centralità nell'altavale del Metauro dobbiamo ritornare ad essere un po' il fulcro dell'altavale del Metauro un territorio che comunque negli ultimi anni è stato un po' trascurato dagli enti maggiori diciamo così, ma anche è stato anche da parte nostra un po' trascurato nel senso che delle azioni che avevamo messo in atto per comunque raffortare una visibilità su un territorio più ampio li abbiamo un po' messi dai cassetti quindi riprendere il discorso di associazione con gli altri enti comunque di fare un po' legame con gli altri comuni che noi sono confinati quindi questo va sicuramente ripreso poi dal punto di vista programmatico un focus importante sarà messo sul discorso culturale turistico noi a Sant'Angelo abbiamo la Domus, il Domus del Mito e lì bisogna che ci spenderemo una fisca importante quindi in termini di impegno e di sforzi sarà una delle cose in cui investiremo di più contestualmente dovremmo anche ripensare un po' lo sviluppo della nostra città quindi riprendere un po' un discorso un po' da troppo tempo abbandonato di ripopolamento del centro storico da questo punto di vista qua i nostri borghi saranno un po' più riapprezzati anche a seguito della pandemia del Covid che abbiamo vissuto perché sostanzialmente presentano un distanziamento sociale quasi naturale smart working che comunque da questo punto di vista qua ci può venire incontro quelle politiche di smart working ci possono venire incontro per cercare di ricollocare sul mercato il nostro patrimonio urbano e renderlo migliore queste sono le indicazioni, le linee di sviluppo che vorremmo portare avanti poi speriamo di trovare gli interlocutori giusti e di portare a casa dei dei risultati ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni 370-366-7210 il numero al quale mandare messaggi o anche foto su whatsapp oppure potete usare anche i nostri social network oggi ci occupiamo di una storia personale accaduta ad una commerciante pesarese che denuncia di essere stata vittima di un furto di identità di profilo social ascoltiamola Io avevo un profilo Instagram, mio profilo personale che avevo creato con lo scopo della moda facevo degli outfit dove presentavo anche attraverso questo negozio questo profilo nell'arco del tempo è cresciuto e è arrivato a 11.000 utenti questo profilo è cresciuto nell'arco di due anni cosa succede? succede che sabato mattina mi sveglio con un messaggio da parte di Facebook la scritta FB su un palino blu che il profilo mi è stato acchierato che devo cambiare password e email altrimenti il profilo mi viene cancellato ingenuamente ok ho fatto questa cosa anche perché non mi scrive qualunque qualunque persona mi scrive Facebook mi scrive Instagram quindi non sto a pensare molto anche se avevo 24 ore a disposizione per fare tutto ciò cambio la password nell'arco di due ore il mio profilo sparisce dalla piattaforma di Facebook e sparisce dalla piattaforma? no perché praticamente io riesco a rintracciare l'hacker come riesco a rintracciare l'hacker mi cambia il profilo e sopra il profilo mi mette un nome strano YAH una roba del genere io da quel profilo vado su Instagram cerco di fare delle ricerche delle cose e risalgo a un suo amico su Facebook e anche su Instagram tra i suoi amici trovo questa persona e tra l'altro in concomitanza con questa cosa inizio a scrivere con l'hacker che mi ha rungato il profilo inizio a scrivere in inglese e domando di darmi indietro il profilo praticamente mi risponde Bella Ciao con una maglietta con la scritta su Bella Ciao mi risponde I am Mafian Italian Allah Abach delle parole che non capivo il significato e non voglio neanche capire il significato questo profilo successivamente cambia nome in Instagram due M finali dopodiché sparisce nel nulla io non lo vedo più attualmente non lo vedo più dal mio profilo non lo vedo più dal profilo dal mio profilo non lo vedo più dal profilo Manufactu non lo vedo più dal profilo dei miei amici non lo vedo più da nessuna parte questo profilo praticamente è sparito definitivamente la rabbia di quello che sta succedendo è che io ho lavorato due anni per far crescere questo profilo con 11.000 utenti mi occupavo della moda mi occupavo di far crescere l'introito anche di questo negozio perché no mostrando gli abiti mostrando tutto quanto e la rabbia la frustrazione è che Instagram a tutto questo non ha risposto neanche a un'email la polizia postale anche loro hanno i tempi abbastanza lunghi per fare la denuncia che sicuramente è stata fatta ed in questo momento probabilmente stanno controllando è che questa persona dello spettacolo perché è una persona dello spettacolo questa persona che mi ha rubato l'account è un ragazzo turco che ha migliaia di profili io me ne sto rendendo conto che a questa persona adesso gli sto dando notorietà quindi ha ancora più più fama però quello che mi interessa è che venga depistata che venga trovata e che il mio profilo mi torni indietro perché è giusto che sia così e che le autorità di competenza facciano quello che devono fare e continuiamo a parlare delle vostre segnalazioni questa volta parliamo di degrado di parchi cittadini in particolare le foto inviateci da Marco Pandolfi si riferiscono al parco di via Firenze a Montecchio di Vallefoglia sul quale già in passato è stata contestata una scarsa illuminazione e che ora non viene adeguatamente rispettato da compagnie di ragazzi che lasciano il manto erboso fra disordine e immondizia si è tenuta questa mattina la cerimonia dà vicendamento ai vertici del comando provinciale della guardia di finanza di Pesaro il colonnello Enrico Blandini 48 anni di Orvieto è il nuovo comandante delle fiamme gialle della provincia e subentra al tenente colonnello Tommaso Commissione che rimarrà in sede come comandante del gruppo della città di Pesaro Villa Valentina di Marotta ospiterà domenica la prima edizione del festival Mosaichiamo la città un festival del mosaico che vedrà ospiti nel comune di Mondolfo artisti provenienti da tutta Europa in una serie di laboratori allestiti per l'evento e continuiamo a parlare di appuntamenti perché domani sabato 26 settembre è la giornata europea del patrimonio giornata che Pesaro celebra con una suggestiva camminata alla riscoperta dei luoghi storici della città promossa proprio dall'associazione Etra e dall'archivio di Stato scopriamo meglio di cosa si tratta imparare per la vita e questo il tema individuato dal ministero beni e attività culturali per l'edizione 2020 delle giornate europee del patrimonio l'associazione Etra entra nell'arte e l'archivio di Stato hanno tradotto questo tema nella riscoperta delle scuole di Pesaro che non ci sono più o che hanno mutato sede nel tempo attraverso la formula del Walkscape la giornata del patrimonio porterà a riscoprire come sono cambiati i luoghi dell'istruzione cittadini dopo l'unità d'Italia un viaggio frutto di un'accurata ricerca storiografica fra i documenti dell'archivio di Stato cittadino stiamo costruendo un percorso relativo alle scuole di Pesaro alla nascita delle scuole di Pesaro nel periodo postunitario perché è un periodo estremamente interessante sia perché appunto c'è una una spinta politica molto forte che porta in tutta Italia chiaramente ma anche a Pesaro a costruire scuole a istituire luoghi di formazione e a Pesaro ha una sua peculiarità che cercheremo di raccontare appunto nel corso della camminata che riguarda sia l'architettura dei luoghi di istruzione e formazione che anche proprio il tipo di istruzione e formazione cioè per dirla adesso in breve appena sono nati i luoghi di istruzione sono luoghi in cui fondamentalmente si mirava ad alfabetizzare quindi il libro di testo era qualcosa da ripetere e questo era un obiettivo chiaro e forte delle scuole molto velocemente però diciamo i programmi ministeriali a livello proprio nazionale spingono affinché le scuole diventino delle scuole che si basano su una istruzione su una cultura molto più radicata nel fare nel comprendere veramente le cose non soltanto ripeterle il Walkscape partirà sabato alle 17 da Piazzale Matteotti e sfocerà nell'archivio di Stato che ha allestito una mostra dei documenti delle scuole pesaresi post Unità d'Italia mostra visitabile fino al 2 ottobre parliamo delle scuole del centro storico quindi gli esordi per esempio del liceo ginnasio Mamiani che ora si trova a due sedi in parte in via Gramsci in parte al campus ma anticamente appunto aveva un'altra collocazione un'altra ubicazione poi parleremo delle regge scuole tecniche delle regge scuole speciali dell'istituto tecnico Bramante dell'accademia agraria che non era proprio una scuola ma aveva tra i suoi compiti quello dell'istruzione e per un certo periodo di tempo appunto dopo l'unità d'Italia ha gestito una scuola pratica di agricoltura che poi è confluita quasi naturalmente nell'attuale istituto Cecchi che ne ha raccolto l'eredità di molte di queste scuole siamo riusciti a trovare o i progetti originari oppure i progetti di ricostruzione a seguito degli eventi bellici della seconda guerra mondiale quando il centro storico di Pesaro è stato oggetto di bombardamenti quindi molte scuole sono state o riparate o riedificate appunto attorno agli anni tra il 40 e il 50 ed ora le notizie sportive infatti domani 26 settembre inizia il campionato della Vispesaro un debutto che arriva dopo una settimana di dubbi e incertezze legate allo sciopero invocato dall'associazione calciatori che contestavano la restrizione a soli 22 giocatori professionisti tesserabili in rosa poche ore fa lo sciopero è stato revocato con le parti giunte ad un punto di mediazione e allora si parte quella della Vis sarà la prima partita del girone visto che i pesaresi sono stati collocati nell'anticipo di domani alle 20.45 al Benelli opposti alla neopromossa Legnano domenica le altre partite con l'Alma Fano che invece debuterà a Perugia e che oggi ha tesserato dal Benevento il difensore classe 2000 Francesco Rillo e allora domani inizia il campionato della Vis al Benelli mentre domenica comincia quello della Carpegna Prosciutto Basket alla Vitrifrigo Arena che si prepara all'appuntamento non solo allenandosi ma anche rimettendo a nuovo gli spogliatoi vediamo domenica 27 settembre ore 18.30 Vitrifrigo Arena di Pesaro prima giornata di campionato di Serie A Carpegna Prosciutto Basket Pesaro di Coach Repesia contro Sassari di Coach Pozzecco dovrebbero essere queste le coordinate di un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati biancorossi della VL e invece sarà un appuntamento per pochi intimi saranno infatti ammessi solo 200 spettatori salvo controordine nelle prossime ore insomma se non sono porte chiuse poco ci manca considerando gli ampi spazi dell'astronave pesarese aspettando l'abbraccio più consistente del pubblico biancorosso la Carpegna Prosciutto Basket ospiterà la squadra di Repesia e i rivali Sardi in un ambiente completamente rimesso a nuovo quello degli spogliatoi dell'arena restaurati e sanificati dalla ricerca tecnologica del consorziato Milesi attraverso il lavoro del gruppo milanese IVM Chemicals e della LG Fornitor di Vallefoglia Abbiamo cercato di fare molta sinergia fra noi consorziati e oggi è venuta fuori questa cosa attinente a quello che ho appena detto chi vendeva le vernici quindi i nostri fornitori noi che siamo produttori invece di articoli e arredamenti per mobili ci siamo legati in questo progetto e oggi abbiamo portato questa grande innovazione questo bellissimo prodotto e allo spogliatoio dell'arena che fra l'altro è una delle strutture principali a livello territoriale ma anche a livello nazionale quindi si fa veramente è per noi un grande orgoglio quando ci è stata presentata l'opportunità di sostenere la VL l'abbiamo fatto volentieri non soltanto per i valori che la VL esprime ma anche per tutta la progettualità che ha sui ragazzi e sui giovani che è un tema verso il quale noi siamo molto attenti l'idea come è venuta è venuta semplicemente dallo studio delle materie prime disponibili sul mercato che potessero svolgere un compito come quello appunto del rendere antibatterico le superfici attraverso la verniciatura noi abbiamo un grande know-how relativamente alla verniciatura e le vernici sono assolutamente diciamo come composizione come matrice chimica assolutamente come quelle normalmente disponibili sul mercato non cambia in nessun modo il modo di applicarle tutti i nostri clienti sono in grado di farne un buon uso senza nessun tipo di preoccupazione e come abbiamo raccontato poco fa anche dal punto di vista estetico e prestazionale non c'è nessun tipo di controindicazione all'attivazione con queste materie prime particolari come fare a pubblicizzarlo attraverso iniziative anche come questa cioè rendere noto che queste soluzioni esistono che sono economicamente ultra sostenibili perché dal punto di vista di chi produce mobili l'impatto è sostanzialmente marginale e quindi è la comunicazione quello che speriamo ci possa aiutare di più a poter promuovere un progetto interessante come questo ed altri e allora buon divertimento con le nostre squadre sportive intanto vi ricordo che questa sera su Rossini TV alle 21.15 replica alle 22.30 vi diamo dei consigli molto utili per risparmiare cliente tradizionale VS cliente smart presentato da Estra Prometeo e vi ricordiamo anche la rassegna di domani mattina mi raccomando non perdetevi l'appuntamento domani c'è Marco Cadeddu alle 7.20 in diretta su Rossini TV e in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e continuate a seguirci anche nel fine settimana perché con voi c'è il Rossini News Week se vi siete persi le notizie della settimana le potete ritrovare sabato e domenica mentre l'informazione e il nostro telegiornale torna lunedì io vi ringrazio e vi auguro buon fine settimana grazie a tutti